Elezioni amministrative a Capolona, ritroviamo Sonia Cincinelli, ma che progetti ci sono per Capolona da parte di Sonia Cincinelli? Allora innanzitutto siamo una squadra e non è solo Sonia Cincinelli, è una squadra estremamente giovane di persone che comunque si sono impegnate da sempre nelle varie attività del comune senza per questo chiedere niente in cambio. Sono attive all'interno della parrocchia, sono attive all'interno delle associazioni, sono attive all'interno della proloco e lo fanno per un semplice spirito di comunità, di sociale, di appartenenza a una cittadina come Capolona. Tra questi obiettivi che naturalmente sono quelli di unire in questo caso Capolona tra le diverse specificità proprio che ha questo territorio, il sociale come si pone? Noi pensiamo che oggi l'Italia e poi quindi anche comunque a livello locale in modo particolare si senta ancora maggiormente la crisi economica, ha colpito tantissime famiglie. Mentre vent'anni fa magari poteva essere una cosa un pochino più marginale, oggi è presente e ha colpito qualsiasi sceto. Per noi è importante riportare il welfare, il welfare anche a livello locale, ci sono già attivi dei contributi per i microcrediti, proprio per le famiglie. Vorremmo non lasciare indietro nessuno, vorremmo che gli anziani, i giovani, le famiglie ma anche i nostri semplicemente amici a quattro zampe, nessuno si senta lontano da quello che è il nostro progetto. Vorremmo riportare il cittadino al centro del comune, ci piacerebbe quindi ritornare a un dialogo continuo, essere presenti nelle difficoltà, anche in uno scambio di utilità, di servizi, essere presenti di nuovo.